Il casello autostradale Pesaro Sud comincia a intravedere un barlume di concretezza. Il Consiglio Comunale di lunedì ha votato con 21 voti favorevoli e 7 contrari parere favorevole al progetto definitivo per il casellino monodirezionale da realizzare in zona Santa Veneranda. Il Sindaco Ricci nell'occasione ha tracciato anche la speranza di andare in gara per i lavori nel 2023. Primo cittadino e assessore Mila della Dora che hanno ripercorso la storia travagliata di una delle opere compensative di società autostrade che da quasi 20 anni vive di stop and go procedurali non aiutati dal crollo del Ponte Morandi e della pandemia. Siamo arrivati tardi, lo sappiamo, quindi recuperiamo, ma sicuramente è la determinazione del Sindaco che negli anni ha sempre inciso nei vari ministeri per far sì che le opere si potessero portare a compimento, insomma lo stiamo vedendo perché ieri abbiamo votato, ripeto, il parere al progetto definitivo. Quello del Comune di Pesaro è uno dei tanti pareri che sarà legati alla conferenza di servizi. Dopodiché ci sarà la fase della progettazione dell'esecutivo, cosa che per le altre opere compensative è già stato fatto. Quindi le altre opere compensative sono già alla fase esecutiva della progettazione e abbiamo visto al momento l'unica opera che è partita è quella di Muraglia, la circonvallazione di Muraglia. Il Sindaco in Consiglio Comunale ha chiarito come la logica del casellino rappresenti una mediazione alle esigenze di viabilità cittadina. Il casello attuale di Pesaro rimane il principale. Qual è la caratteristica che Pesaro ha e non hanno altre città? Che il casello attuale è tutto a nord. Il casello di Fano è il centro della città, il casello di Pesaro è tutto a nord. E quindi se tu non vuoi declassare quel casello e vuoi migliorare il collegamento da e verso sud, quello deve rimanere il casello principale. Per cui è vero che è stata una mediazione, perché c'era una discussione che si era, come dire, impantanata. Però è anche vero che se ci pensiamo bene, per come è fatta Pesaro, è una soluzione che ha degli effetti positivi. Perché il casello attuale rimane il casello principale e il casello delle aree industriali. Il casello sud diventa un casello di miglioramento della viabilità nord-sud, ma non è il casello principale. E quindi, pur essendo stata una mediazione, è una cosa che se ci pensate ha una logica anche strategica. Non sono mancati mal di pancia nell'opposizione, da una certa preferenza alla Montelabatese rispetto a Santa Veneranda, alla scarsa possibilità di correttivi, fino ai dubbi sull'impatto ambientale. Di fatto il progetto non può essere modificato in alcun modo e questo Consiglio Comunale, di questo mandato, non può in nessun modo intervenire su questo progetto, in quanto quello su cui il Minastero, di fatto, ha già dato il parere favorevole dal punto di vista dell'impatto ambientale, non può in nessun modo essere toccato. Io non penso che sia in basso impatto ambientale un casello monodirezionale, perché quelle stesse macchine che non entrano in quel punto della autostrada e che quindi hanno una via di scorrimento maggiore, entrano negli interquartieri, entrano, che ha un impatto maggiore da un punto di vista ambientale, perché ha un impatto di inquinamento molto più forte una macchina che va all'interquartieri, perché deve fare tutto il traffico stop and go.